Ore di totale caos per quanto riguarda le iscrizioni al prossimo campionato di Serie B dopo i problemi riscontrati da Lecco e Regina. Il Perugia nella giornata di ieri ha presentato la richiesta di ammissione agli atti dell'iscrizione di alcuni club alla B ma anche la diretta domanda di riammissione al campionato cadetto. Ora il cronoprogramma prevede per il 30 giugno l'esito dell'istruttoria da parte della Covisoc. Poi entro il 5 luglio potranno essere depositati i ricorsi e dentro il 7 saranno varati organici e calendari. Brescia e Perugia sono dunque intenzionate ad andare fino in fondo alla questione. Non è poi nemmeno definita la posizione della Sampdoria la cui salvezza e conseguente iscrizione è fatta in pochi giorni. Tacitando tutti i creditori è a sua volta da verificare. Nessuna novità invece sul fronte societario con il presidente Massimiliano Santopadre che ha smentito a Vera TV la voce che si era diffusa da nello suo possibile interessamento per la San Benedetto Calcio, la ex San Benedettese da poco ripartita dalla Serie D e guidata da Roberto Renzi. Se riesco a cedere il Perugia, ha detto Santopadre, non ho alcuna intenzione di rientrare nel mondo del calcio.